Spazientanti M.T. Ayers, oggi voglio parlarvi di The Expanse e del suo finale, sicuramente la miglior serie di fantascienza dell'ultimo decennio. Andiamo a scoprirla assieme. Partiamo! Torno finalmente a fare una recensione di una serie dopo diverso tempo da quella sulla pessima terza stagione di Discovery e devo dire che ho scelto la più importante serie sci-fi dell'ultimo decennio, quindi già solo per questa affermazione meriterei un bel like, ma non pretendo così tanto da voi senza che me lo sia guadagnato parlandovi appunto di The Expanse. Se già la conoscete e non volete sorbirvi la mia parlantina di riepilogo, passate direttamente al segmento dedicato alla sesta stagione, altrimenti rimanete qui con me che vediamo di fare un'analisi più generale. The Expanse arriva abbastanza in sordina non solo da noi ma anche negli USA sul canale sci-fi nel lontano 2015. Da noi un anno dopo la rende disponibile Netflix con un adattamento italiano. Dopo le prime tre stagioni la serie viene cancellata e poi proseguita questa volta da Prime Video e ridistribuita da noi in toto dal servizio di Amazon a partire da fine 2019. Questo cambio che normalmente segnalerei giusto per Performa in questo caso invece ha una valenza incredibile, infatti sembra proprio di vedere quasi due serie separate per genere di racconto. Segnalo che io non conosco i libri e non voglio tirarli in ballo o confrontarli col realizzato per la tv. Voglio solo segnalare che dopo la terza stagione si è perso quel genere noir e investigativo che sfociava in un thriller d'azione spaziale, per passare praticamente più ad un dramma familiare dei personaggi conosciuti precedentemente. Ok, mantiene l'azione e la suspense, ma il tutto può meglio essere vicino a qualcosa come Lost in Space, tanto per fare il primo esempio che mi viene in mente. Un cambio che personalmente non ho gradito molto, ma che non ne pregiudica così tanto la buona riuscita, quindi perché la definisco comunque come la miglior serie di fantascienza del decennio scorso? Beh, parandubbiamente per la cura nei dettagli dei voli spaziali si potrebbe quasi definire un hard sci-fi da gran che si impegnano a fornire un ambiente per le persone, coerente con la scienza da noi scoperta e le possibili evoluzioni tecnologiche a breve termine che la nostra società potrebbe fare. Sì, ok, si sono presi delle libertà come quelle di far sentire i suoni nello spazio o di non considerare troppo la posizione relativistica dei pianeti o asteroidi nella loro orbita, ma sono sottigliezze che solo chi è un amante di spazio e si perde a giocare a Kerber Space Program può veramente notare. La scelta poi di avere il motore a thrust, diciamo, infinito è anche quella una scelta tutto sommato accettabile, anche se non coerente al nostro sapere. A riguardo devo segnalare assolutamente il canale Space Doc, trovate il link qui in alto, ma non fuggite, andate a cercarlo dopo, che esamina nel dettaglio le scelte tecnologiche e addirittura i combattimenti della serie, facendo notare come addirittura un combattimento dell'ultima stagione è impressionante per la sua possibile fedeltà ad una realtà. Sì, lo so, sono cose da nerd per molti e dettagli che notano in pochi, ma non giriamoci attorno, sono quei dettagli che fanno la differenza tra una serie normale o scarsa e una che tra 15 o 20 anni continueremo a riguardare. Il lavoro fatto sui personaggi poi è qualcosa di ottimo, nelle prime tre stagioni il carattere e l'approfondimento dedicato a ognuno di loro è giusto, ponderato, chiaro e quindi ben delineato, con principi che lo spettatore capisce subito e con cui si può immedesimare rapidamente. La crescita poi di ogni personaggio, l'affrontare le varie paure e così via, è anche quella un tratto distintivo che non colpisce solo Holden, l'interno protagonista fin dal primo episodio, ma anche gli altri personaggi che poi ci lasciano nel tempo, alcuni con necessità di trama, altri semplicemente perché nella vita reale hanno fatto detto cose sconvenienti per la produzione. Quindi meglio infartarli alla bene meglio per poi citarli in ogni episodio successivo, come se fossero un mantra da esorcizzare. Anche la scelta degli attori per i vari ruoli, come quello di Avasarala, di Amos o di Bobby, per me sono stati molto azzeccati e non parlo di Holden perché il personaggio gli è stato letteralmente cucito addosso. Adesso è il momento di passare alla trama, anche per spiegare come mai i vari personaggi sono calati di spessore dalla quarta stagione in poi. Prima però due parole sull'adattamento che tra la terza e la quarta stagione ha cambiato di casa, appunto con il passaggio da Netflix a Prime e la differenza si vede. Nulla di estremamente grave o vistoso, ma parole come silicone, per tradurre silicon che significa ne vero silicio, mi hanno fatto storcere il naso, ma ho anche notato proprio meno padronanza nel gergo tecnico spaziale e questo, anche se ad uno spettatore medio non salta molto all'orecchio, mi fa apprezzare ancora di più di avere la possibilità di poter seguire il tutto in lingua originale. Poi capisco che il mercato del doppiaggio sia attualmente ipersaturo e super competitivo e che richieda anche tempi rapidi, ma il rischio è di realizzare un prodotto che, localizzato in italiano, vada a perdere qualcosa di importante per l'utenza che non padroneggia l'inglese. Vedete ora lo sfondo rosso perché siamo in un'area semi-spoiler, visto che parlerò fino alla quinta stagione, ma senza entrare troppo nel dettaglio. Se dovete ancora vederlo, saltate pure questa parte e andate direttamente alle conclusioni finali. Infatti già dalla prima puntata capiamo che Holden è il protagonista indiscusso, non fosse che è l'unico sopravvissuto della sua nave. La serie gioca bene sulla parte investigativa, i problemi tra gli abitanti della cintura degli asteroidi, Marte e i terrestri, ma soprattutto si focalizza sul mistero della protomolecola. Qui abbiamo lo sviluppo più estremo della trama che deborda quasi al fantasy. Agli alieni millenari che costruiscono cose, ma tutto ci sta, funge, ha un senso, non solo cose buttate a caso. I personaggi pensano, ragionano e prendono decisioni. Siamo comunque con un gruppo non così unito e affiatato di persone da Marte, dalla Terra e dalla cintura degli asteroidi che sfruttano la nave militare roccinante, correttamente recuperata e scorrazzano indipendenti nel sistema solare per salvare l'umanità dalla minaccia della protomolecola. Personalmente queste tre stagioni iniziali sono un crescendo cosmico e la serie potrebbe finire anche lì, ma si decide di continuare, entrando addirittura negli anelli e scoprendo altri mondi. Questo dura poco, anzi pochissimo, e in maniera frettolosa nella quarta stagione. Da qui i problemi personali dei personaggi, che prima erano presenti ma ben amalgamati e funzionali alla trama, prendono lentamente il sopravvento e diventano il nodo centrale di puntate dove succede poco a livello di macro trama, ma che iniziano a raccontare il passato di tutti nel tentativo di risolverlo. Non è comunque brutto e se un personaggio piange è perché deve piangere e lo fa con un senso e non per forzare lo spettatore ad empatizzare. Quindi si parla sempre di un buon lavoro, ma è indubbio che tutta la parte sulla Terra nel tentativo di evacuare le persone dopo l'attacco o alla ricerca del figlio di Naomi, dove si scopre che proprio il suo ex marito è il super cattivo. Beh, mi hanno fatto calare l'attenzione e penso che la mancanza di un personaggio come quello di Miller, definitiva dopo la fine della terza stagione, abbia cambiato fin troppo gli equilibri della serie e sì, è il personaggio che fra tutti ho preferito maggiormente con la sua crescita personale, eppure sacrificio non legato esclusivamente al salvataggio dell'umanità. Ed eccoci arrivati alla sesta ed ultima stagione, sì, non ne faranno più e già si era capito. Quindi solleviamo lo spoiler e iniziamo a ragionare su cosa succede, o meglio, su cosa non succede, perché il problema è proprio che non succede nulla di nulla per le prime cinque puntate della serie sulle sei finali. Nel senso, cose capitano, la drummer che perde i suoi compagni nel senso di gruppo poliamoroso, quindi abbiamo le sue paure, la sua voglia di vendetta e di dare spazio al suo popolo, quello dei cinturiani, senza però sfruttarli come pedine, sistema usato invece da Inaros. Ok, bello ci sta, ma è stato pesante e strano come l'incontro con Avasarala su Cerere. Intanto la roccinante fa cose e i suoi occupanti semplicemente occupano tempo sullo schermo, senza procedere, stanno lì e fanno cose. C'è da dire che però proprio il terzo episodio ha regalato in assoluto il miglior combattimento spaziale che abbia mai visto, come ho già detto prima. Quindi punti a favore, la serie li ha ancora. E si arriva all'ultimo episodio con la battaglia per conquistare Medina dentro l'anello. Tutto bello, ma poi la sparizione di Inaros è stata forse troppo rapida, anche se la smaterializzazione è stata spettacolare. Cioè per me il suo personaggio non ha avuto una catarsi ma una fine anticlimatica. Tutto si è preparato e poi puff, sparisce in una scena di 10 secondi. Da qui in poi il finale non è un finale. Sai che è finita e cosa fai? Lasci spazi aperti? Ma certo, non hai chiuso il discorso sugli antichi e poi lasci alla protomolecola sparita solo dei trafiletti senza spiegare realmente nulla, se non che facevano esperimenti su un pianeta ed erano loro a finanziare i Naros per poter distrarre il sistema solare e per cercare cosa? Morti viventi, ipridi umani o animali con la protomolecola? Ma tutto rimarrà nel nulla, tanto valeva non accennare nemmeno quel poco che hanno fatto, così mi ha solo innervosito. Siamo tornati con sfondo blu e questo vuol dire che siamo alle conclusioni ed è giunto il vostro momento quello di mettermi un bel mi piace e di iscrivervi al canale attivando la campanellina. Dai che me lo merito e poi potete rimanere aggiornati sugli altri miei video. Mentre voi però scrivete i vostri commenti su questa serie e vi preparate per diffondere questo video in ogni dove nel sistema solare, va detto che The Expanse è una serie assolutamente da vedere che affronta argomenti pesanti e particolari in maniera completa e degna, che lascia un'impronta di sé perché ha osato nel fare qualcosa di quasi hard sci-fi quando tutti puntano sul fantasy o il supereroistico. Ha messo la storia al centro e non ha gratificato troppo i fan e il pubblico. Insomma una serie ben costruita e tenuta assieme da autori che possiamo ricordare per esempio nei figli degli uomini. Quindi buona visione e alla prossima cari M.T. Ayers. Ciao!